Una risposta in voi sia come ascolto sia come partecipazione, per cui sono sempre molto molto contento anche perché poi uno si arricchisce. Se scrive un libro così vuol dire che questo libro si articola sotto forma di domande, come appunto vedrete e sentiremo, e quindi le domande non sono soltanto quelle che io faccio alla vita, quella che la vita fa a me, ma anche quelle che voi farete a me naturalmente, espandendo questa mia problematica che è quella del senso. Ora, il problema del senso in filosofia, io ho scritto un libro di filosofia però dal punto di vista del narratore, cioè mi sento un letterato perché è un filosofo, quindi io ho raccontato il pensiero. Si può raccontare il pensiero? Beh, l'ha fatto anche Cartesio, il più grande razionalista di tutti i tempi, ha raccontato il pensiero nel discorso sul metodo, che è un romanzo. del pensiero, un piccolo romanzo, bellissimo. Quindi se l'ha fatto anche Cartesio da razionalista, io che non sono un razionalista, ma sono un letterato, un narratore, posso farlo anche io. È chiaro che ho una passione filosofica, sono laureato anche in filosofia oltre che in lettere, tanto per parlare un po' del curriculum, e quindi questa passione filosofica ha a che fare con i miei proprio 16, 17 anni. Questo libro racconta dei problemi di senso della vita che mi sono germinati non adesso, non 10 anni fa, non 20 anni fa, ma quando avevo 16 anni, quando ho cominciato a coltivare la passione filosofica. Quali erano le domande? Allora, uno può farti tante domande all'interno della vita, ma c'è una sola domanda che riguarda la vita intera. Nel mio libro io dico che noi, dietro tante domande, non ci poniamo la domanda delle domande, che è quella che noi tutti sappiamo, che non diciamo più, che non formuliamo più. E che invece, forse da bambini, da adolescenti, formulavamo. Poi è passato del tempo, poi sono tante cose, sono accavallate da tante preoccupazioni, bisogni, siamo cresciuti su noi stessi, eppure c'è questa ghianda fondamentale, come direbbe Ilman, che non è mai scomparsa in noi. Noi effettivamente siamo sempre i bambini che eravamo, anche se abbiamo rimosso l'infante che c'è in noi, per dirla con Pasquale e non soltanto con lui. E questo infante che c'è in noi, ebbè, faceva delle domande forse più serie, più profonde, di quelle che ci facciamo oggi, dove molto spesso abbiamo più risposte che domande. Man mano passa il tempo e il tempo della vita è quello delle risposte che si accavallano. E purtroppo si semplificano anche, in due, tre proverbi, due, tre neuroni, dico io, nel cervello, quando sappiamo già che cosa è la vita, sappiamo già dove stiamo andando. E lo diciamo anche gli altri, vogliamo anche convincere gli altri, io non sono convinto, che le risposte che noi diamo al senso dell'esistenza in questo momento, in età post-nichilistica, siano quelle soddisfacenti. Io non sono soddisfatto. Parto da un'insoddisfazione del senso che stiamo dando in questo momento alla vita, sia individuale che sociale. È facile dire che la vita non ha senso, no? Come Umberto Galimberti, che io stimo in motante. È facile dire che il senso è un problema cristiano, è un problema che il paganesimo sostanzialmente non si poneva, il che occorre anche vedere. È un po' come la speranza, dice Galimberti. Il senso è come la speranza, un falso concetto. Perché noi dovremmo partire, secondo lui, da quello, in fondo, dal pessimismo della scienza. Poi sostanzialmente, la scienza cosa ci dice? La scienza ci dice che noi siamo mortali. Difficile che la scienza, per esempio, dimostri la nostra immortalità. Ora, la mortalità è una delle, diciamo, delle questioni più forti del senso. Vi ricordo che questo libro, appunto, ho sentito Le mascole del senso, il sottotitolo è piuttosto forte. Lo so che è piuttosto azzardato. Come inganniamo il tempo? La morte, lo stupore di esistere. Io ho messo lo stupore di esistere dopo la morte, perché, malgrado quello che si dica, appartengono alla stessa famiglia la coscienza della morte, come diceva Heidegger, e l'apertura alla vita. Appartengono allo stesso ordine di discorso, malgrado, naturalmente, siano in contraposizione. Mi ricordo, scusate, una piccola battuta a quello che Claudio Villa, ricordate, il grande cantante, fece mettere sulla tomba, che mi è impressionato quella volta. Cosa aveva fatto scrivere? Vita, ti amo, morte, fai schifo. Sulla tomba! Sulla tomba Claudio Villa! Ora, vita, ti amo, morte, fai schifo. Ma non è altro che il messaggio che ci propinano i mass media tutto il tempo. Vivere è bello, la felicità, l'amore, il senso della vita, la creazione, e poi uno ritrova dentro se stesso, spegne la previsione e cade in una depressione profonda. Se tu dici morte fai schifo, devi aggiungere quindi anche la vita. Chi dice che la morte gli fa schifo, gli fa schifo anche la vita. Chi dice, chi appunto dice a se stesso che non vuole morire, beh, allora era meglio non essere nato, come diceva Shakespeare. Seneca lo sapeva, no? Si comincia a morire quando si nasce. È inutile cantarcelo. Vuoi non morire? Non nasci. Ma purtroppo non possiamo tornare indietro. Possiamo toglierci il battesimo, ma non possiamo toglierci la nascita. Come inganniamo il tempo, la morte e lo stupore di esistere? Allora, intanto, noi siamo in età post-nichilistica, una volta ho parlato di Nietzsche, appunto, il famoso Dio è morto, che non vuol dire Dio è morto. La rappresentazione di Dio è morto. I valori sono morti, ma non vuol dire tutti i valori sono morti. I valori del passato sono morti, la rappresentazione dei valori è morti. Il mondo non è più valutabile, secondo Nietzsche. E quindi non possiamo più, naturalmente, intendere rappresentarlo sulla base dei valori, almeno dei valori tradizionali. Poi Nietzsche ci mette quello della terra, quello della vita, quello della passione, quello della volontà di potenza. Partiamo da questo, partiamo dal presupposto che la vita non ha senso. Ora, io dico che non possiamo sederci su questo nichilismo. Nessuno si può sedere e stare tranquillo sull'affermazione la mia vita non ha senso. Perché il senso ti insegue. Ma non tanto il senso, ti insegue la domanda del senso. Noi siamo nella domanda di senso senza saperlo. Parlo proprio del senso di esistenza. Dove stiamo andando? La famosa frase barzelletta. Chi siamo, no? Dove stiamo? Eh, non è la barzelletta. Dove stiamo andando in questo momento? In questo momento noi stiamo scorrendo. Stiamo scorrendo. Cioè, stiamo dentro il senso di qualcosa che scorre. Scorre biologicamente, scorre entropicamente, scorre fisicamente. Le nostre cellule si stanno perdendo in questo stesso momento. Noi siamo trainati, siamo trascinati. I latini dicevano traere vita. Forse sappiamo già che nel traere vita c'è non soltanto un condurre la vita, non trascinarla. Ma quando tu trai la vita, sei la vita che trae te. Per cui se noi siamo tratti dalla vita, se in questo stesso momento siamo dentro una corrente che ci trascina, il nostro malgrado, noi siamo già dentro un senso. E se non diamo senso alla vita, non possiamo dire che la vita non ha senso. No, la vita non ha il senso che noi vediamo, ma siamo già dentro un senso. Noi siamo già dentro la corrente. Noi siamo dentro il tempo. Per chi ci creda o non ci creda. Può non esistere il tempo, come dicono tanti filosofi, ma esiste lo sviluppo. Esiste lo sviluppo dell'infanzia. Può non esistere il tempo, ma esiste la corsa verso la fine. Questo scivolo che noi ogni tanto appunto avvertiamo, ma la gran parte del tempo rimuoriamo. Pensate a uno scivolo, no? È chiaro. Dalla nascita si comincia a scivolare. A un certo punto noi cosa facciamo? Siamo come un bambino che scivola e dice alla mamma, mamma non sto scivolando, sono fermo. E se ne fa una ragione, ancora prima di cadere con il sedere giù. Ecco, noi stiamo dentro appunto uno scivolo e ci facciamo delle ragioni per pensare di essere fuori dal tempo. La gran parte della prassi, la gran parte delle nostre attività e dei nostri pensieri molto spesso non sono pensieri di tempo, perché non riusciamo a reggere il tempo. Noi non riusciamo a reggere la sensazione che in questo momento stiamo morendo. Io parlo di avvio verso la morte, avvio verso naturalmente la fine. Non siamo capaci di reggere il fatto che siamo comunque dentro una corrente. Una corrente. E allora cosa facciamo noi? Ci creiamo delle oasi. Di non tempo, Bergson direbbe spazializzazione del tempo. Cerchiamo di fermare il tempo spazializzandolo. E la gran parte delle nostre attività, che ci distraggono dalla trazione del tempo, sono praticamente attività di extra-temporalità. L'uomo non riesce a tollerare il fatto di essere tempo, come diceva Heidegger. Nietzsche avrebbe detto che l'uomo non riesce a tollerare il fatto di essere divenire. Non siamo divenire. Non siamo un divenire eterno, anche se per qualcuno, per Nietzsche e anche per Severino facciamo parte del divenire eterno. Abbiamo una coscienza per cui il divenire è un divenire qualcosa. Purtroppo, come direbbe Platone, contestato da Heidegger e Severino, soprattutto, divenire nulla. Noi appena nasciamo cominciamo a divenire nulla. Questo ci crediamo o non ci crediamo? Ok. Poi occorre vedere se il pensiero laico prevale su quello religioso, su quello della fede. Io sulla fede ho scritto tante cose, perché è un modo per rispondere al senso resistente. Io rispetto, come rispetto mia sorella che è cattolica e che sta leggendo questo libro, ogni tanto gli si accappona la pelle su alcuni brani. Così rispetto tutti coloro che credono, ma non soltanto coloro che credono in Dio, ma anche coloro che credono agli dei, coloro che credono ai santi, coloro che credono a un guru. Io rispetto questa gente qua. Io rispetto questa gente che ha un punto di riferimento, che dà un senso alla vita credendo in qualcosa. Però, francamente, provo a smascherare l'ipocrisia che ci dici. In che cosa stai credendo? E perché hai bisogno di credere? C'è la James, il filosofo americano, che ha scritto un libro, Volontà di credere. Sostanzialmente, noi quando crediamo, o crediamo passivamente, cioè crediamo in qualcosa che ci ha convinto, o vogliamo credere in qualcosa, soprattutto in qualcosa che magari non ci ha convinto, ma di cui vorremmo convincerci. Ora, dietro il credere, soprattutto in questo secondo significato, c'è l'ipocrisia di chi se ne vuole fare una ragione. Ora, farsi una ragione del tempo, farsi una ragione della morte, beh, vuol dire forse ingannare. Tempo e morte. C'era un grande scrittore brasiliano, Machado de Assis, che già nell'Ottocento ha scritto una frase che mi ha sempre colpito, la cito molto spesso, mentre noi ammazziamo il tempo, il tempo ci seppellisce. Quindi noi crediamo di ammazzare il nostro becchino. Chiaro? Ora, se come diceva Hegel, come dire, la verità è il risultato, Cogel, grande filosofo francese che ha interpretato Hegel, come l'ha interpretato in qualche modo? Io lo conosco poco, ma so, l'estenziale di quello che dice, che io porto nel mio discorso, è questo. Se Hegel dice che la verità è alla fine, che la verità è il risultato, che il vero è ciò che hai fatto, e allora la verità della vita qual è? Non devo dirlo io. Se praticamente la verità è il risultato, il risultato della vita è quello che tu hai costruito con la tua vita, ma di te che vivi il risultato è la fine della vita. Quindi noi, ecco, da questo punto di vista siamo più nichilisti dei nichilisti e ce lo teniamo dentro perché sentiamo che il risultato della vita, se il risultato della vita è la cosa più importante della vita, è la morte. E se non mettiamo insieme queste due cose, ci contraddiciamo e ci inganniamo. Per cui le maschere del senso, a cui leggiamo un brano, magari quello sul farsene una ragione, ho portato la mia lettrice che è Simone Albano che legge molto molto bene, ecco, praticamente farsene una ragione vuol dire che tu sostanzialmente stai scivolando, ecco ricordate la corrente sta scivolando, ma te ne fai una ragione. Cioè giustifichi il dato di fatto pensando che te lo sei scelto tu, ma quante cose della nostra vita noi non abbiamo scelte e le santifichiamo, le battizziamo come se fossero scelte da noi. La nostra vita è stata scelta, la vostra vita ve la siete scelta finora? Uno potrebbe dire sì, o con Neruda confesso che ho vissuto, basta che ho vissuto. Ma quante cose noi non abbiamo scelto? A parte di nascere, a parte di essere educati dai nostri genitori, a parte della religione, dell'habitat, del clima nel quale abbiamo rispirato la nostra cultura, i libri che abbiamo letto, quante volte abbiamo noi scelto davvero la nostra vita? C'è un'immagine che mi viene molto spesso in mente e che vorrei sviluppare anche altre volte, per cui pensate allo stop and go, allo stop and go, l'andare e il fermarsi. L'andare sono le scelte che ne facciamo, effettivamente se ne facciamo delle scelte proviamo a dare senso alla vita e quindi andiamo avanti, parallelamente al tempo, investendo il tempo. E lo stop qual è? Beh, lo stop è la rinuncia. Bisogna vedere quante rinunce noi abbiamo fatto da quando siamo nati. C'è chi rinuncia alla vita intera, c'è chi rinuncia al desiderio e lo rimuove, poi nei sogni, nell'acting out, nella nevrosi, tutti questi desideri massacrati ci ritornano, perché il desiderio è ciò che di immortale c'è in noi, c'è poco da fare, non riusciamo mai a rinunciare effettivamente io rinuncio al desiderio, ma il desiderio non rinuncia a me. Noi siamo posseduti dal desiderio, è il nostro demone, come direbbe anche Socrate in altro senso. Farsene una ragione, giustificare il dato di fatto attraverso le maschere. Dunque le maschere del senso sono le maschere che noi diamo praticamente al senso dell'esistenza o al non senso. Qui il discorso non pare che fosse troppo complicato. C'è chi crede che la vita abbia senso, due grandi categorie. C'è chi crede che la vita non abbia senso. Ora, chi crede che la vita abbia un senso, poi però maschera il vuoto del non senso in qualche modo. Io parlo di queste ipocrite, sono un pirandelliano, il titolo è pirandelliano, è un po' pirandelliano e un po' nicciano. Non a caso ho fatto la tesi in lettere su pirandello, la tesi in filosofia su niccia. Quindi in qualche modo se hanno qualcosa in comune questi due autori, io cerco di organizzare, di cucire. Le maschere del senso. Le maschere che noi diamo al senso della vita, perché sono maschere? Perché sotto sotto sappiamo di camminare su una voragine e che il nostro concetto di misura, di applicazione, i nostri impegni, le nostre occupazioni, preoccupazioni viaggiano su una voragine che noi non vogliamo vedere. Per fortuna esistono i sogni. Per fortuna esistono i sogni che, come direbbe Jung, sono la parte compensativa del nostro inconscio massacrato e che poi la nostra verità è massata. Qui, se riprendiamo l'iceberg di Freud, che l'io è un iceberg, certo non soltanto noi siamo una piccola parte di quello che conosciamo, ma in questa piccola parte ritagliamo un'altra piccola parte in cui ci diamo pure delle maschere e non vogliamo pensare, non vogliamo sapere, non vogliamo soffrire, non vogliamo tollerare il tempo e la morte, per esempio, ma anche il vuoto. L'Occidente ha loro vacui dentro, il DNA, il vuoto, il vuoto di tempo, la pausa, l'intervallo, tutto ciò, sacrificato in nome dell'impegno, dell'agire, del darsi da fare. E mentre noi ci diamo da fare non pensiamo, non è una critica all'umanità, è che molto spesso il nostro darci da fare è un modo per non pensare. E Pascal, che io cito, lo sapevo, l'uomo ha trovato un modo di ingannare la morte, dice Pascal nel 600, basta non pensarci. Ma questa cosa va applicata anche al tempo, l'uomo vive il tempo perché non ci pensa o non lo sente, non sente neanche la durata bergsoniana, no? Ogni tanto, perché sono delle epoche della vita in cui tu ti guardi allo specchio e cosa fai? E mi dici, ma che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto finora? Passano 5 anni, 20 anni, passano 50 anni, ti guardi allo specchio e dici, ma io che cosa ho fatto? E adesso sono i famosi bilanci, i bilanci di una vita, che per alcuni non vengono mai, per i trogloditi non vengono mai. Ma altrimenti diciamo anche per le suole di clausura non vengono mai. Quando uno investe un'intera vita e non fa più bilanci, beh, se uno non cambia, non vive, perché la vita comunque è trasformazione, se uno non accetta le proprie morti dentro, perché non è che si muore la sua volta, se si muore la sua volta vuol dire che la vita non è stata risulta. Se si muore più volte, pensate ai nostri lutti, ma soltanto lutti di papà, mamma, persone, ma anche i lutti delle vostre scelte, scelte esistenziali che vanno verso la fine, che vanno verso il lutto. Io sono morto a me stesso, in quanto quello in cui credevo era una sciocchezza, cambi di fede, cattolici che diventano buddhisti, cristiani che diventano islamici. Cambio di fede è un cambio di senso appunto alla vita. Le maschere del senso sono le maschere appunto che noi diamo anche al non senso, sostanzialmente, perché una volta che io ho detto la vita non ha senso, come faccio ad andare avanti? Io non voglio dire che la vita deve avere senso, dico soltanto che una volta che tu abolisci la domanda di senso, naturalmente hai abolito una parte di te, hai sacrificato te stesso. Il mio libro è fatto di domande e di contraddizioni. Quella fra senso e non senso è una contraddizione fondamentale. Io smaschero nel mio libro sia chi dice che la vita ha senso, perché poi mi devi dire cosa fa per realizzarlo, sia chi dice che la vita non ha senso. Io non prendo partito perché in maniera kirchgardiana vedo una lacerazione tra noi, noi siamo lacerati tra queste due cose, abbiamo bisogno di senso e paradossalmente abbiamo bisogno anche di non senso, perché il non senso ti libera dal senso in cui eri imprigionato, perché come vedremo a un certo punto il senso diventa prigione. E non soltanto perché hai investito tutta la vita nella guerra, nel convento. Ricordate quel bel romanzo di Buzati, Il deserto dei Tartari, qui c'è l'investimento di una vita nell'aspettare il nemico. E dice un altro capitolo. Quanto investiamo a noi di senso falso nello scontrarci col mondo o nell'affrontare un nemico che poi non arriverà mai, o arriverà quando muori come nel deserto dei Tartari. E questa è una scelta, la scelta militare. Oggi magari non c'è questa scelta di guerra, ma la guerra la facciamo tutti i giorni, quando ci scontriamo con qualcuno che non la pensa come pensiamo noi. E poi c'è per esempio la scelta religiosa. E lì dovrei scrivere altri quattro libri. Io non sono un ateo, perché come qualcuno dice, l'ateo è legato al teos, c'è ancora il Dio dentro. Per essere senza Dio bisogna presuppone Dio. L'ateo è più, come dire, vicino al Dio di chi non è né ateo e né, diciamo, teologico o religioso. Cioè è chiaro che se tu continui a pronunciare la parola Dio come quando bestegni, esempio mio padre che era cattolico, bestegnava. Allora se tu, ecco, e mia madre andrà all'inferno, ma allora se mio padre, come tutti i bestegnatori, bestegna, no? Voleva dire che c'era dentro di lui il presupposto di un Dio che l'avrebbe punito, e quindi anche una volontà di punizione. Ecco perché dà molto fastidio chi bestegna. Perché dice, ma allora tu credi in Dio? Allora se credi in Dio perché bestegni? Non credi in Dio. Se non credi in Dio perché bestegni? Contro questa. Allora dici, porco dingo, porco coso, porco tavolo, porco... Ma non usi quella parola, che è il presupposto per scandalizzare gli altri e naturalmente a ferire gli altri, perché sfido chiunque, ad essere stato ferito da qualcuno che gli bestegna vicino. Ma anche non essendo cattolico, non essendo cristiano. Ma comunque, allora adesso leggiamo questo brano sulle... sulla, diciamo, il farsene una ragione. C'è la giustificazione a posteriori di scelte, a volte coatte, o di scelte che noi abbiamo fatto per ragioni di convenienza e che dobbiamo giustificare al mondo, agli altri. Guarda, io ho fatto questo, ho sposato questo, ho realizzato questo, ho scelto questo lavoro perché? E tu devi convincere gli altri. Ma perché? Perché non hai ancora convinto te stesso. Dal capitolo decimo, dalla fiducia cosmica incondizionata, al farsene una ragione. Appunto, farsene una ragione. Petere e querere. Chiedere per ottenere e chiedere per sapere. L'interrogazione parte da qui, dall'infanzia. Interrogazione per avere qualcosa che manca. Interrogazione per sapere qualcosa che non si sa. E dunque, manca al sapere. La prima interrogata è la madre. Può mancare il seno? Perché manca il seno? Perché può mancare il seno? Può mancare qualcosa al sapere, al senso? Perché manca il senso? Dov'è il senso? Mamma, dove andremo a finire? Tu, io, tutti. Possono mancare il seno e il senso. Il seno per nutrire e il senso per crescere in una direzione. Ma anche il senso potrebbe nutrire. L'uomo ha bisogno non solo della sopravvivenza attraverso il seno, ma anche della crescita attraverso il senso. Sopravvivere e vivere. E il senso diventa seno, esso stesso, seno, che manca. Si interroga il seno, poi si interroga il senso. Come ci si nutre di seno? E poi, non basta sopravvivere, Si guarda al senso, al dove si va. La rimozione più clamorosa è questa, e avviene durante l'infanzia. Rimozione dell'interrogazione del senso. Continuiamo a usare il termine rimozione in una accezione filo-psicoanalitica. Adler avrebbe preferito usare il termine scotomizzazione, che dà maggiore peso alla tendenza dell'inconscio a non voler vedere. E dunque ha una sorta di latente responsabilità. In ogni caso, il nostro uso della parola rimozione non è lontano da quello degli interpreti del decostruzionismo di verità come una psicanalisi della filosofia. Cercansi risposte per tappare i buchi e le risposte piovono a catinelle. L'educazione ha come finalità, innanzitutto, nella malafede pedagogica, quella di fornire ragioni, qualunque esse siano, per coprire il non senso, sia quello dell'oggetto ricercato, sia quello delle strade collaterali. È l'educazione del farsene una ragione. Fattene una ragione, si dice, a chi non ha vie di uscita. Adesso basta. Si può rispondere genitorialmente al fioccare delle domande. Oh, ci sono cose per cui sei troppo piccolo. Domani saprai. L'educazione impone il limite del sapere, le colonne vercole oltre le quali non bisogna andare, e i tappi di cera per non sentire il vero canto della vita, del tempo e della morte. Si costruisce il superio del farsene una ragione. Guai se non si apprende il mestiere di una ragione. Razionalità rispetto ai fini? Agli scopi? Ai mezzi? Ai valori? Comunque razionalità, anzi, razionalizzazione del non senso e relativo svuotamento dello stupore e della domanda. Così parlava della verità dei filosofi Nietzsche, in ogni filosofare non si è trattato per nulla, fino a oggi, di verità, ma di qualcos'altro, come salute, avvenire, sviluppo, potenza, vita. In assenza di un fondamento evidente, necessario, o almeno credibile del sapere, del sentire, dell'agire, e in mancanza di un orientamento sicuro, ecco intervenire una ragione sufficiente che faccia da supporto e legittimazione, soprattutto agli occhi della propria coscienza. La ragione sufficiente alla ricerca del migliore dei sensi sostenibili, per parrafrasare Leibniz, copre un vuoto di motivazione radicale, spesso distratto e supportato dalle emozioni. Le emozioni come muovente teleologico non bastano, ma bastano a distrarle e a obnubilare temporaneamente l'assenza di senso. Si cerca in ogni caso non solo un muovente al vivere, in questo modo o nell'altro, ma anche una ragione, magari posteriore, postuma o posticcia, perché la coscienza interiore, se ancora se ne può parlare, non è del tutto aggirabile sui fondamenti dell'agire e del credere. Il grande filosofo Vichiello, leggendo questo libro, è partito dal titolo e mi ha detto, lui che è un heideggeriano doc, che è un professore che sta a Napoli, che ho anche presentato al mio salotto letterario, tra l'altro. Ricordiamo l'appuntamento. Ricordiamo l'appuntamento di martedì al salotto. Non voglio fare pubblicità dei miei salotti, comunque, chi vuole venire, cioè, può entrare nella mia lista, basta che mi dia il suo indirizzo. Io faccio, per chi non mi conosca, dei salotti letterari e filosofici, parte come salotto letterario ogni due martedì. E ho avuto, appunto, diciamo, ci sono anche degli ospiti qui presenti, che sanno cos'è, ho avuto Carlos Sini, ho avuto Susaro, che è venuto anche qua, dico Susaro, adesso vorrei avere Severino, ma anche Severino ha il mio libro in mano, ma purtroppo è un pochino anziano, gli dovrà anche dare il tempo di leggere, figuriamoci, invitarlo appunto al salotto. No, stavo dicendo, mi chiedo, quando ho letto questo titolo, Le maschere del senso, come ingamiamo al tempo, la morte e lo stupore che esiste, ma è una cosa molto interessante, ma io me l'aspettavo, da un haideggeriano doc, mi ha detto, caro Caracci, ma tu sei sicuro che siamo noi a dare le maschere al senso? Non è il senso che dà le maschere a noi? Pensiamoci, riflettiamo, meditiamo gente. Cosa vuol dire che il senso dà le maschere a noi? Beh, io un giorno parlerò con Richiello, se tu rovesci la cosa, naturalmente vuol dire che nel senso già credi, che già lo ipostatizzi, se il senso diventa il soggetto del darci delle maschere, vuol dire che il senso è già presupposto al soggetto, e a me non piace, a me non piace quando un senso è presupposto al soggetto, così, in maniera amblese, come non mi piace quando il soggetto è presupposto al senso. vuol dire che allora ci stai un po' sferzando, cioè ci stai evitando, ma sì, appunto perché queste due soluzioni sono contraddittorie, cioè se io do senso, appunto pensate alla frase così apparentemente innocente, dare un senso alla vita. Ma bello cosa, se tu dai un senso alla vita, qual è il presupposto di questa frase? Che la vita non ha senso, come se la vita aspettasse noi per avere un senso, una presunzione antropomorfa qui, cioè che, lei ci avrebbe denunciato, naturalmente, cioè io do senso alla vita, potrei dire do senso alla mia vita, ah ma la vita è tua, beh sì, è mia, quindi metti un possessivo alla vita, la vita è mia, come se non ci foste anche voi, come se la vita non fosse il cosmo e tutto il resto. Guardate le contraddizioni, allora, la frase io do un senso alla vita, vuol dire dare un senso alla vita che senza di me non lo avrebbe, presunzione umanistica, massima, da picco della mirandola, massima. Dall'altra parte, la frase opposta sarebbe praticamente non dare un senso alla vita, appunto, in questo caso, non dare un senso appunto alla vita, vorrebbe dire, naturalmente, molti dicono non dare un senso appunto alla vita, viverla, goderla, quindi abbandonarsi al flusso della vita. Questo vi lo chiama atteggiamento un po' orientale, buddista, paolista, orientale, dell'abbandono al flusso, non progettuale. Ma, tra le maschere, se posso, insomma, introdurre Pietro questo piccolo argomento per far capire un po' meglio il libro, le maschere del tempo, ecco, vi dico soltanto una maschera che vediamo al tempo. Su questo argomento io, più che lavorarci, lavoro mentalmente da quando avevo 18 anni, da quando lessi uno stupendo libro di George Bataille che si chiamava L'esperienza interiore, 1945, è un libro che non tutti conoscono di Bataille, perché, nei confronti del tempo, che comunque c'è, almeno sotto forma di flusso, di corrente, chiamiamolo divenire, ecco, chiamiamolo divenire, nei confronti del divenire noi abbiamo due atteggiamenti opposti, una volta non ce ne accorgiamo. Il primo è quello di progettare il presente. Quindi io ho un'ora adesso con voi, la progetto, cioè fa parte di un programma, di una pianificazione. Noi staremo qui perché stiamo programmando qualcosa, pianificando, ma potrebbe anche essere, non so, una coscienza più sviluppata, non lo so, ma di solito non è questa la pianificazione del tempo, la progettazione del tempo è fare del tempo un investimento. La parola investimento, nell'epoca del mercato globale e delle banche, è un termine che sa di finanziario, sa di tempo denaro. Io progetto il mio tempo perché intanto se non lo progetto il tempo scorre è come gli interessi in banca andrebbe avanti lo stesso e senza di me. La pianificazione del tempo, la progettazione del tempo fa parte di quella modalità di investimento del tempo che io chiamo progetto, seguendo un suggerimento di battaglia. Voi dite, eh, caracci, ma tutti progettiamo il tempo, qualunque cosa noi facciamo è fatta per ottenere degli obiettivi, dei fini, degli scopi. Ne siamo sicuri? Se io leggo un libro, per esempio, se io leggo La ricerca del tempo perduto di Proust o scrivo un libro, mi sto ponendo degli scopi? Voi dite, forse sì. Intanto non sono gli stessi scopi del tempo come investimento. Una volta lo chiamavano OZIUM, ricordate? OZIUM e Seneca anche lì ne sapeva qualcosa. Il tempo della lettura, per esempio, non è del tutto un tempo come investimento. Potremmo dire io non voglio arrivare a nessun risultato. Anzi, se voglio arrivare a risultati sbaglio. Non so, lo faccio per, leggo un libro per fare una recensione e essere pagato. Quello sì è un tempo come investimento, non la lettura come godimento. Allora, primo corno del dilemma rispetto al tempo. Io pianifico il mio tempo. L'altro qual è? ma come ho già accenato è il disinvestimento del progetto. Io vivo il tempo, poi torni Pietro? Poi torni, se rimaniamo orfani senza, dobbiamo elaborare il lutto. Allora, poi magari leggiamo il brano sull'elaborazione del lutto. Ecco, l'altro corno del dilemma, avete già capito qual è? È praticamente il disinvestimento del tempo della progettualità. ossia, io vivo questi attimi senza pormi nessun, nessun, nessun fine, nessuno scopo. Dall'altra parte cosa ti dicono? Stai sprecando il tempo. Stai sprecando il tempo. Ricordate il tempo? Me lo ammazziamo e lui ci seppellisce. Ecco, stiamo sprecando il tempo. Allora, questo concetto di spreco del tempo nella forma del tempo come disinvestimento, io chiamo abbandono al flusso, è una forma che lo spreco, pensate, dovrebbe essere rivalutato. Ecco, diciamolo così. È uscito appunto questo libro L'utilità dell'inutile, io potrei anche appunto scrivere l'utilità dello spreco, ma perché lo spreco è inutile? Perché sprecare il tempo è inutile? Che cosa ci stiamo perdendo? Dove vogliamo arrivare con questo investimento del tempo come fosse un capitale? Dove vogliamo arrivare? Abbiamo una sola vita. Stiamo investendo che cosa? È un po' ridicolo vivere la vita come capitale, capitalizzare la vita. D'altra parte quindi c'è questo atteggiamento dell'abbandono al tempo. L'abbandono al tempo è il godimento del tempo, il godimento del tempo, laddove, purtroppo, l'investimento progettuale del tempo non sempre è il godimento, perché il godimento sarebbe nei risultati. Io faccio dei sacrifici di tre anni per ottenere un risultato. Ho goduto in quei tre anni? No, rimando il godimento al risultato. E allora cosa ho fatto della mia vita in quei tre anni? Avrò ottenuto risultato? c'è gente che si deprime dopo i risultati. C'è Pavese che si è suicidato dopo il premio strega, ma per altre ragioni. Ma c'è gente che ha la cosiddetta depressione post partum però artistico. Sapete, anche io ho avuto la depressione post partum artistico. Scrivo un romanzo bellissimo, tac, arrivo alla fine e piango. Perché? io dico che cosa ho fatto nel mio tempo? Certo, in questo caso ho scritto un romanzo, però sostanzialmente sono anni perduti. Ritorno davanti allo specchio e vi faccio appunto un bilancio. Mi posso dire ma certo ho investito quel tempo. Sì, ma intanto sono passati tre anni e hai goduto quel tempo. L'esempio della scrittura è a parte perché lì uno scrivendo gode, gode e soffre appunto al tempo stesso. Quindi, per cui, ripeto, ripetisco, si è trovato il brano sul... non è previsto altrimenti dentro diciamo un altro. Ma comunque ormai è chiaro. Allora, il tempo può essere vissuto come progetto e come abbandono. In entrambi i casi ci sono i vantaggi e in entrambi i casi sono i vantaggi. Non pensiate che io il tempo come abbandono lo viva e no, lo viva in maniera serena. Assolutamente perché nel momento stesso in cui mollo alle redini metto i remi in barca e dico io mi lascio portare dalla corrente sì, ma per quanti giorni, per quanti mesi, per quanti anni, crepo dentro la barca. Crepo dentro la barca con i remi tirati in barca. Non so se è chiaro. Mi viene il senso di colpa come occidentale malato che a volte che praticamente non stia investendo il mio tempo, non stia appunto quindi lo stia sprecando. Allora, in qualunque momento della mia esistenza, meglio, questo è capitato a me, non so se è capitato a qualcuno di voi, ma io ce l'ho sempre avuto questo questo dilemma. In questo momento cosa faccio? Io potrei da qui, dai 15 anni in poi investire l'intera vita. Per esempio, mi ritiro in convento, l'intera vita. Potrei invece dai 15 anni in poi abbandonarmi all'intera vita e non fregarmene più di nessuno né degli scopi, né della società, né degli altri, godermela oppure godermela anche in società. Ma senza progettare nulla. Quello è godimento. Purtroppo in questo godimento si inserisce il chiodo del rimorso, del senso di colpa. Perché io dico nel mio libro, ecco, forse il senso di colpa originario lo abbiamo neanche quello, tra i brani che questo libro praticamente è un po' tentacolare, no? Quindi io dico una cosa e mi fa in mente un'altra, però tutto torna, ruota, torna al problema del senso. C'è un brano sul senso di colpa. Allora, dico soltanto questo, poi comunque leggiamo un brano, anche perché leggendo un brano, qualunque sia il brano fa parte del contesto, così anch'io riparto da lì. Cos'è il senso di colpa originario? Noi, come cristiani viviamo in un senso di colpa originario, come sapete, Si è un peccato originario, molti sono battezzati per questo, un senso di colpa che il cristianesimo ci induce. Comunque, il senso di colpa per me non è questo, io non mi sento in colpa per quello che Adamo e Eva hanno fatto cose, mi sento in colpa per un'altra cosa, mi sento in colpa per quello che ho detto prima, noi abbiamo un senso di colpa nei confronti del Dio Cronos, che ci mangia, ci mastica e ci defeca, scusate, come nell'immagine di Crono che divora i suoi figli, i figli di Crono siamo noi, noi ci sentiamo masticati dal tempo, anche se il tempo non lo diciamo ipostatizziamo come Dio, ma gli antichi erano intelligenti, forse più di noi, l'hanno ipostatizzato come Dio, Dio, noi avevamo Cronos, uno degli dei, beh, allora è chiaro che noi siamo tutte vittime, vittime di questa cosa che forse è dentro di noi o fuori di noi ma intanto esiste, noi, ogni attimo della nostra vita ci possiamo porre il problema del che cosa sto facendo e se le nostre scelte sono state giuste se non abbiamo esagerato, se intanto il giorno dopo non dobbiamo sentirci in colpa per un giorno sprecato, il concetto di spreco del tempo può darsi che non ci sia che voi siate soddisfattissimi, avete fatto esattamente fino a oggi la cosa che dovevate fare, io non sono convinto, ma butto lì, io non ho fatto le cose che dovevo fare, cioè sostanzialmente se vado indietro ecco, sento che tante possibilità sono state perdute, tanti treni sono stati perduti, tante opere non sono state scritte, per vari motivi avrei potuto fare un altro lavoro, le possibilità del passato ti dischiudono senso di colpa per quello che sei, sarò forse magari esigente io nei confronti di me stesso, ma ciascuno ha le proprie esigenze nei confronti di me stesso, queste esigenze che vengono mascherate molto spesso agli altri, perché la maschera, come già sapeva a tirandello, è molto spesso sociale, ma la peggiore maschera è quella che uno indossa nei confronti di sé spesso. Parleggiamo? Sì. Dal capitolo quarto il tarlo che ci rode, la colpa originaria, il doppio senso di colpa. In questa prigionia logica ed esistenziale dello scopo identificato col senso come direzione, fine, significato, obiettivo, meta, accade nel mondo della tecnica che anche i fini si riducano ai mezzi, i significati ai segni, gli obiettivi alla ricerca e la meta alla strada per raggiungerla. La vita stessa avrebbe già senso nel suo essere vissuta, nel suo scorrere, svilupparsi, procedere, andare. Del resto, la vita non è comunque sacra in qualunque modo la si viva? La vita è sacra perché non ha bisogno di giustificarsi, ha già senso di per sé, questo pensano gli apologeti del senso sottinteso. Il sacro della vita resiste al senso. È l'idea di molte religioni, ma non solo di quelle, capace apparentemente di spazzare via qualunque ricerca di senso ulteriore. Peccato che il problema del senso ritorni nel rapporto fra sacro e senso di colpa che le religioni risolvono con il camotage e la valvola di sfogo del peccato. Vi sono almeno due origini psicologiche del senso di colpa. l'una è esterna come introiezione di un comando non seguito, di un superio tradito odiato nel segreto della coscienza, l'altra tutt'interna al soggetto esistenziale e riguarda lo scarto spesso inconscio tra la propria volontà di potenza, di espansione, di realizzazione e le proprie rinunce. All'interno di questa seconda tipologia del senso di colpa si colloca una frustrazione antica che cresce col tempo e riguarda il rapporto con la propria origine in certo modo mitica e immortale come lo è l'infanzia. In questo caso il bungolo non è del superio paterno materno sociale o religioso ma di quel particolare radicale antropologico superio che è il tempo e insieme a esso la coscienza impropica della dissipazione. Si tratta di quel senso di spreco che può avvinghiare chiunque a tutte le fasce d'età e che ci circonda come noi viaggiamo tra la liscia incudine dell'infanzia e l'incalzante martello dei giorni e procediamo o nostro malgrado che agiamo o non agiamo che speriamo o non speriamo che siamo tristi o felici anche qui scappa l'introiezione di un comando che è presto a poco un devi vivere e non sopravvivere devi crescere e non tuo malgrado devi fare qualcosa che ti migliori e tutto questo mentre il tempo passa e rugge l'irrettezza originaria sta tutta qui all'interno di un'antropologia forse tutta moderna dove la crisi dei valori delle certezze e delle grandi narrazioni come le uole di Otar gioca il suo ruolo centrale che è un ruolo culturale lo si può definire un senso di colpa nei confronti di se stessi come dei propri devideri e delle proprie ambizioni accompagnato da un insopprimibile filo di vergogna esso stesso subliminare per le rinunce che hanno frenato dirottato o avvilito il nostro viaggio l'ultimo passaggio importante di questo libro cioè tra i tanti quelli che costituiscono appunto i punti i punti calzanti ma è un po' tutto il libro che è un reticolo poi vedete che nel libro si viaggia e si torna si viaggia e si torna è come una strada maestra fatta di tanti affluenti che poi dopo percorsi articolati vanno sempre sulla strada maestra della domanda di senso e l'ultimo passaggio che voglio illustrarvi appunto riguarda un'altra doppia modalità contraddittoria del nostro vivere che ho definito pienezza e catarsi usando dei termini che sono un po' filosofici e un po' psicologici come vedete sono un appassionato di psicoanalisi per cui intreccio a vari livelli di discorso filosofico psicoanalitico letterario soprattutto e anche anche morale insomma e cosa vuol dire pienezza e cosa vuol dire catarsi allora noi quando pensiamo alla felicità molto spesso usiamo questo termine la pienezza andare verso la pienezza che poi produciamo anche con soddisfazione contentezza felicità e poi c'è la beatitudine e poi c'è la gioia tutti questi gradi che io ho esaminato in un capitolo che si titola l'albero della felicità partendo dalla soddisfazione che è il grado più basso e non c'entra con la felicità soddisfazione e tutto il resto ma ecco senza uscire dal discorso la pienezza è il sentirsi soddisfatti satisfacere in latino quindi sentirsi abbastanza satis rispetto appunto alle proprie ambizioni i propri desideri sentirsi pieni soddisfatti di una vita vuol dire sentirsi pieni questa pienezza noi la inseguiamo in qualsiasi cosa che noi appunto facciamo molto spesso identificiamo il risultato di un qualcosa che ci è riuscito bene con un senso di pienezza è la stessa felicità molto spesso è una felicità in cui sembra che l'animo si colmi di qualcosa pensate a un cerchio vogliamo riempire tutto il cerchio della nostra vita senza che ci siano dei punti vuoti soddisfazione contentezza vuol dire anche continuere sapere io in segno latino scusate queste etimologie ma nel continuo nel essere contenti noi siamo contenuti chi è contento è uno scon... chi non è contento è scontento in quanto incontinente con tutto rispetto ma è chiaro che lo scontento è un incontinente cioè vuol dire che non riesce a trattenere veramente stiamo in tanti quindi la contentenza è una forma di contenimento e non c'entra con la felicità che invece sapete la maravice fe sanscrita che ha a che fare con la fertilità con il feto e quindi con la fecondità la felicità è uno stato di fecondità ecco perché non esiste una felicità assoluta come diceva Leopardi perché se la felicità è fecondità è la stessa felicità del campo che sta per generare che sta per produrre il grano si può dire che quel campo è felice? certo ma citticamente perché poi sarà infelice a tempo appunto sarà infelice l'inverno sarà l'infelicità del campo per cui se noi parliamo di una felicità come in televisione stiamo mentendo a noi stessi perché pensiamo che la felicità sia uno stato che si possa guadagnare la felicità è sinusoidale cioè praticamente crolla nel momento in cui tu ti dici sono felice potresti cadere in depressione mai dirselo la felicità è subita non è scelta non si costruisce la felicità si costruisce la soddisfazione la contentezza non la felicità e quindi pienezza dall'altra parte cosa c'è? e chiudo con questa riflessione c'è uno stato opposto la pienezza a un certo punto un po' come il senso va verso la saturazione mi siete mai sentiti tanto soddisfatti di qualcosa da averne le balle piene quindi la soddisfazione crescendo va verso la saturazione questo è il come dire l'otto taurista della nostra vita cioè a un certo punto com'è quel termine? appunto enantiodromia enantiodromia scusate è un termine stupendo usato da Eraclito che è usato anche da Jung che vuol dire andare verso il proprio opposto ogni cosa va verso il proprio opposto e poi ritorna al suo opposto noi siamo a sandwich fra gli opposti delle cose che sono dinamici non sono statici l'Occidente ha inventato la dialettica spesso come forma statica a parte Eraclito che era già più orientale che occidentale aveva capito il dinamismo della contraddizione noi siamo dentro una bilancia c'è poco da fare quando diciamo sono arrivato Eureka attenzione depressione perché devi reggere il peso dall'altra parte di questa bolla come lo strumento per livellare la bolla deve essere perfettamente al centro ma non è mai perfettamente al centro ecco perché il meglio stat virtus va benissimo per Aristotele ma non per noi noi ci proviamo a far stare centrata la bolla fra i due opposti ma siamo trascinati e sballottati fra gli opposti ecco l'altro opposto come pendoli appunto non è il pendolo della vita di Chopin è un altro tipo di pendoli l'altro opposto rispetto alla pienezza è la catarsi cosa è la catarsi è un termine che voi magari ricordate da Aristotele ma che sostanzialmente si traduce con purificazione molto spesso liberazione da la nostra vita appunto è un pendolo che uscilla fra volontà di pienezza e volontà di purificazione l'apparato gastrico lo sa per dirla in forma biologica pienezza e anche naturalmente le fasi psicoanalitiche appunto dell'oralità analità e fallicità in questo caso l'oralità rientra nella voglia di pienezza fagocitare il temperamento orale come dicono alcuni è il temperamento che vuole fagocitare fino alla patologia di Hannibal appunto del cannibalismo e ci sono dei cannibali tra noi che sono mascherati che vogliono fagocitare tutto e quindi prendere tutto il mondo la catarsi è appunto invece la volontà di purificazione potremmo dire evacuazione non voglio scendere così in basso però evacuazione liberazione purificazione purificazione è un termine che viene da pur come sapete vuol dire fuoco più il fuoco più la purificazione del fuoco gli storici dicevano che l'universo ciclicamente si purifica nel fuoco e poi ritorna splode naturalmente grande grande concezione cosmica storica la purificazione è la nostra esigenza che le religioni bene hanno male hanno interpretato come purificazione attraverso la penitenza una confessione vai la tua anima sarà libera da che cosa? dal peccato ricordiamo che cosa penso del peccato io sarà libera dalla pienezza che è diventata saturazione che è diventata nausea oralità pienezza saturazione vomito e poi ritorno vomito per nel senso metaforico per liberarsi e poi naturalmente la rincorsa e l'antiodromia verso il suo posto verso una nuova pienezza ecco noi oscilliamo fra questo riempimento e questa evacuazione e questa volontà di purificazione quando però come direbbe Jung noi scompensiamo la bilancia sul piano dell'individuazione su uno di questi opposti viviamo male una pienezza piena di se stessa è una pienezza così da da poplessia una una diciamo una catarsi una purificazione pur anche di se stessa è l'angoscia è il vuoto è il vuoto che ti assale potremmo tradurre queste due cose con un vuoto pieno come da fare o con per esempio o in termini psicologici una sorta di claustrofobia da pienezza mi sento chiuso all'interno della vita non riesco più a capirci più niente la mia vita è solo preso questo è quello che si dice oggi in questo periodo sono preso preso è la caverna di Platone sei preso perché non ti sei e domani domani sarò ancora più preso per tutta la vita uno è preso ed è un captivus appunto è preso è come dire scusa sono schiavo in questo periodo quindi cerco di liberarmi e poi ti richiamo sono preso quando uno è preso è chiaro che siamo già all'interno dell'orizzonte della piezza e della saturazione per non essere presi bisogna liberarsi e la purificazione è una liberazione la gioia che dà la purificazione ogni caso c'è purtroppo non continua quando io sono purificato da qualcosa che mi ha preso per non so per tre anni quattro anni mi sono liberato è chiaro che lì c'è la gioia finalmente libero quante volte siamo liberati da un esame alla maturità ricordate la nostra maturità più catarsi di quella è stato per me il giorno più bello della mia vita prima cioè neanche le lauree mi hanno dato che soddisfazione ma che qualcuno ti dica che sei immaturo per non si sa che cosa però vuol dire che liberazione evacuazione catarsi ecco noi abbiamo questi due listini e usciliamo tra questi cosa fare cosa fare essere tutti purificati come chi vive la vita per la purezza completa praticamente non la vive la vita non è pura per niente bisogna sporcarsi bisogna intorno in modo cominciare un po' a riempirsi anche per avere le nostre piccole soddisfazioni dall'altra parte invece una pienezza totale chi vi dice sono felice o siamo una coppia felice ecco vuol dire che viene dal cabaret vuoi venire tu Franco vieni io dovrei dovrei ma non sono capace quando parlo in pubblico dire tante cose beh ne dico dico due cose e lui lo conosco è un amico a cui voglio bene adesso ho trovato il mio fratello questa è una il discorso è un altro che quando ti avevo proposto filosofia e poesia un po' l'hanno esclusa quasi tutti qua eccola qua io ho ritrovato tanti dei suoi discorsi dentro quel libro il libro tuo in variazioni sul nero esatto 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 e quindi vorrei che riprendeste la cosa a cui mi aggancio quando lui ha parlato di chi ha lo scopo e religioni e compagnia bella io sono 60 anni che vado seguo gente che le scrive poesie e in Italia siamo il triplo di quanto tutta l'Europa veste insieme e metaforicamente c'è un sacco di gente che crede di essere poeta dicendo adesso me la invento io una cosa stupida ma il concetto di quella di che non è poesia oggi è nato il signore oppure il risorto e sono contento e mi piscio addosso e credo di aver fatto tutti quanti tutti ecco e non c'entra o c'entra la psicanalisi di questi di questi cosi qui e tutto sommato si invece si può trovare quando un poeta sul serio vale no si trova una filosofia e se ne può discutere un altro sistema è fare il processo di essere le intenzioni allora in quel caso lì anche uno scemo per un giorno diventa una farfalla grazie mi ha invitato a leggere il suo libro perché no no a parte del mio salotto no no figuriamo voglio trovare se lo fa lo deve fare qui con la stessa la parla tutta io in paginata la seconda ti faccio leggere una poesia certo l'ho detta la parla hai fatto l'altra per il certo che ti ringrazio quello deve essere prima dopo dopo Pietro mi fanno la domanda è una domanda è una parola cioè è una parola veramente il senso della vita è un argomento fondante della filosofia è l'argomento più importante su cui riflettere però non so c'è qualcosa che non colgo il senso della vita è giusto quello che ci hanno insegnato i nostri genitori e i nostri educatori o è qualcosa di diverso che ci siamo inventati noi quanto abbiamo potuto aggiungere a quello che è venuto dall'esperienza collettiva che ci viene proposta attraverso i nostri docenti me ne invento io è qualcosa che non verifico mai con nessuno quando parlo così attorno a un tavolo mangiando con gioia il cibo e mi metto a parlare del senso della vita è un argomento non è necessariamente triste non so come è un argomento portante quindi è un argomento interessante che può coinvolgere molti commensali in un buon dialogare no? perché dialogare non significa necessariamente ridere come in seguito ad un avverzo detto o altro ma dire delle piccole verità con serenità con umiltà che semmai possono aiutare gli altri a costruire e quindi un senso della vita che ci viene imposto attraverso l'apprendimento del linguaggio per esempio attraverso la comunicazione un senso della vita sempre che sia consolidato perché tutte le persone vivono no? la domanda che ti pongo secondo te che è il riflettuto su questo argomento ha messo giù questo libro così complesso ciascuno di noi aggiunge qualcosa a questo senso della vita che gli viene trasmesso e come fa ad aggiungerlo con un atto di volontà con un atto di fantasia con gioia pensandoci o non pensandoci io ultimamente sono stato veramente come dire toccato perché mi hanno portato a partecipare a una serie di conferenze che dovevano preparare il pubblico alla vendita di prodotti americani promettendo attraverso un'attività di networking ricchezze future quindi un investimento no no non c'è nulla da ridere è vero ci sono dei personaggi consacrati storicamente che io conosco che hanno realizzato questo obiettivo attraverso questo metodo ma qui mi hanno chiesto mi hanno fatto una domanda che per me è stata un po' destabilizzante perché è vero quello che dici tu ogni tanto mi giro indietro mi chiedo che cosa ho fatto fino adesso e semmai sento un senso di vuoto sento un senso di colpa per non aver interamente utilizzato le mie energie ma provate a farvi una domanda per il vostro futuro chiedetevi ma l'hanno chiesta io sono stato destabilizzato come pensi che sarai fra dieci anni allora ho cominciato a pensare la mia attività sarò ancora avvocato avrò smesso avrò una fonte di rendito come quella che ho avuto fino ad ora con attività professionali o non ce l'avrò più avrò bisogno di integrare quello che io portavo a casa con la mia attività e adesso con la pensione cosa devo fare qual è il progetto ecco qui trovo no la felicità una una semplice affermazione che ho sentito fare da persone intelligenti attorno a me che ho cercato di sposare consiste nel fatto di avere in ogni momento della nostra vita un progetto se vogliamo banalizzare il progetto è qualcosa di grandioso che semmai comporta l'utilizzo di tutte le nostre forze no superare noi stessi per realizzare il progetto cioè diventa qualcosa che contribuisce anche no allo sviluppo di tutta quanta la società il nostro progetto se è un progetto minimamente positivo ecco ma credo che il senso della vita sia a parte il progetto la progettualità e chiedersi la faccenda siamo quotidianamente affaccendati per fortuna questo è quello che ci distrae completamente dalla ma non fermarsi a riflettere ma la faccenda ha tutta una serie di implicazioni che non so se tu puoi spiegarci alla luce di tutto quello che hai scritto grazie c'è un applauso c'è un'ambizione abbastanza cioè che io ho tenuto in considerazione perché ricordate la contraddizione progetto e abbandono tamburino è tutto dalla parte della proprio occidentale in questo comunque è tutto dalla parte della 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 progettualità allora prima risposta brevissima allora è chiaro che noi ci leghiamo a un senso di tradizione cioè a un senso che già c'è prima che non escessimo perché comunque il senso intanto i genitori hanno fatto un progetto se non si è rotto qualcosa scusate hanno fatto provo di farci nascere se l'hanno voluto quindi noi siamo all'interno di un progetto se il bambino dice a mamma mamma che senso ha l'essermi appunto l'aver messo al mondo per amarti e la mamma la mette sul cale dell'amore e il bambino per ora si tranquillizza per ora ma noi è chiaro che veniamo da un senso appunto alla faccia di quelli che dicono che comunque veniamo dal non senso ma effettivamente nel piccolo nel piccolo il senso è quello di essere amati essere stati amati già prima di nascere come dicono i genitori e poi durante noi veniamo da una tradizione questa è un'obiezione abbastanza ovvia per me perché è chiaro che se si parla di senso la tradizione ha senso cioè non è che noi siamo nati da nulla siamo noi che ci inventiamo a un certo punto la domanda di senso evidentemente anche nella domanda di senso siamo figli di quindi noi veniamo da una tradizione come diceva Gadamer per cui la cultura è trasmissione del sapere allora Tamborino dice ma allora anche il senso è trasmissione del senso due cose primo è ovvio che praticamente noi come figli dobbiamo non arrestarci al senso che i genitori hanno dato la loro vita ma andare avanti altrimenti non sarebbe neanche storia e noi saremmo vissuti inutilmente secondo però non è tanto importante il fatto che i genitori ci diano una tradizione ci garantiscono un senso un'educazione l'importante per me è il fatto che i genitori ci facciano sentire dentro un orizzonte teleologico ossia un orizzonte di significato dell'esistenza prima che noi ci emancipiamo da loro e noi purtroppo non siamo sempre all'interno dell'orizzonte della tradizione del senso che i genitori ci hanno non siamo perché se fossimo lì saremmo fossilizzati come i come si chiamano i ciusi i ragazzi che vivono tutta una vita in casa dei genitori saremmo fossilizzati e quindi se rimaniamo all'interno della tradizione dei nostri genitori prima o poi andiamo verso la saturazione quello che ho detto la nausea da pienezza tant'è vero che molti delitti in famiglia sono dovuti appunto ragazzi che non sono riusciti a uscire né fisicamente né mentalmente da quello che era come dire leggi dal coperchio dell'amore e poi diventato il coperchio della tomba la casa per questi ragazzi è diventata una tomba a 30 anni a 40 anni non trovando lavoro e rimanendo con i loro genitori però appunto non si può non sviluppare il senso della tradizione da cui si appunterebbe ma questo è chiaro nello storicismo si è parlato di questa trasmissione di questa staffetta della cultura e quindi anche teologica papà io porto avanti un senso partendo dal tuo senso questa sarebbe la salute papà tu mi hai insegnato la cultura papà e mamma io vado avanti posso anche contraddirvi posso dirvi non che la vostra vita non ha avuto senso cosa che alcuni figli dicono la fase soprattutto io gli insegno fra i 6 e i 17 anni c'è una fase di ribellione al genitore che si trasmette anche al professore quando poi fanno il transfert su noi no? io mi devo liberare dal professore l'italiano e il latino mentalmente e vedi questa aggressività quindi assolutamente Pietro appunto ha ragione però siamo tutti all'interno di un'ottica progettuale il problema di rimanere dentro un senso e il problema poi di uscirne o di dare senso al senso che i genitori davano a noi praticamente rimane io ho scritto un capitolo che riguarda la morte del genitore e ciò che comporta dal punto di vista teleologico che è un capitolo piuttosto struggente oggi non leggiamo però appunto un capitolo in cui io dico esattamente una volta i genitori sintetizzo erano i nostri tutor nel senso i tutori non è che ci chiedevamo a tre a quattro anni possiamo cominciare a chiedere ma la risposta di mio padre mi tranquillizzava mia madre mi ha detto a un certo punto perché? 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 basta? perché è così? o perché devo lavare i piatti? è chiaro che c'è la oppure perché ti amiamo basta accetta questo dono che ti abbiamo fatto e quindi la domanda resta l'ultimo perché resta evasso l'ultimo perché sopravvive ai genitori i genitori muoiono e quel perché a cui non hanno dato un perché sopravvive a loro quel perché fosse immortale l'unica cosa veramente immortale della nostra vita l'ultimo perché ecco ma il senso appunto imposto il senso aggiunto ecco una frase che mi ha colpito è quella che ha detto Pietro appunto la felicità consiste nell'avere sempre un progetto ora il tamborino mi dà un assist ma neanche un insignia insomma mi dà un assist su quello che io sto per dire no? cioè se è vero che noi diciamo la vita è un progetto dopo l'altro mi sembra un po' la pubblicità della patatina pai cioè una patatina tira l'altra cioè ma il vuoto l'intervallo la pausa fra un progetto e l'altro intanto c'è o non c'è perché di progetto in progetto il cadavere sarà pieno di progetti nella tomba come dire di progetti potrei dire è l'astricato l'inferno di una progettualità infinita c'è un momento in cui la riflessione l'autoriflessione la meditazione non voglio parlare in termini orientali ma è certo che l'oriente ci insegna qualcosa è importante per respirare per respirare di progetto in progetto non si respira più c'è un brano di Pirandello tratto da una novella adesso magari leggiamo anche un mio brano se non sono domande ma penso di sì sentitela questa novella di Pirandello eleviamoci questo pensiero cioè parla di un personaggio che deve porsi delle preoccupazioni per vivere perché altrimenti l'angoscia lo fa annegare e di preoccupazione in preoccupazione la cosa si ritorce cont di lui è la leontà che lo riempie di bisogni di pensieri allora lui pensa che levandosi questo pensiero finalmente è libero di vivere ma poi si leva un pensiero e gliene viene un altro un'altra occupazione cioè quella che era la sua angoscia si trasforma in un cumulo di occupazioni che gli vengono dalla vita è facilissimo è facilissimo essere occupati basta vivere basta vivere la vita ti riempie comunque di occupazioni ti riempie non c'è bisogno che tu stai lì infatti io non capisco la noia a volte se uno vive e fa questa bella cosa di vivere la noia non dovrebbe appunto se tu sei aperto chiaramente appunto alla vita quindi è chiaro che la progettualità infinita rischia di essere comunque un boomerang ed è la vulgata dell'occidente soprattutto capitalistico la progettualità che vuol dire poi appunto investimento darsi sempre da fare e non lasciare mai nessuno solo con se stesso a pensare beh dai facciamo degli interventi possibilmente brevi perché sono tanti che chiedono di parlare vuoi venire Gileo? poi c'è una barba c'è un aspetto che ho percepito dalla domanda ecco ma mi chiedo il senso della nostra vita non dipende anche dagli altri fino a che punto cioè nel senso che mi pare tutto il discorso manca l'intersoggettività tenendo conto delle neuroscienze ma il intestino eccetera e poi poi parlare di maschera maschera questa domanda a Pirandriano rispondo subito appunto è chiaro che il senso della vita ma se il senso della mia vita dipende solo dagli altri comincio a preoccuparmi io chi sono è chiaro che non voglio cioè l'intersoggettività viene un pochino dopo scriverò un altro libro no? Pirandriano lì ha già detto in qualche modo tutto dagli altri non vengono soltanto i sensi vengono anche le maschere che io praticamente accumulo e poi mi ritrovo dentro i centomila che gli altri mi danno quando mi guardo allo specchio